ciao a tutte ragazze qua ciao a tutte ragazze come qua ciao a tutte ragazze come qua ciao a tutte ragazze qua ciao a tutte ragazze come un nuovo video questo video è un video tag come avete visto il titolo del video allarghiamo le nostre cerchie ciao a tutte ragazze come a tutti ragazze come a con un video ciao a tutte ragazze come a con il video ciao a tutte ragazze come a con il video dell'antiprime app ciao a tutte ragazze come a con noi ciao a tutte ragazze come a con noi questo che è ciao a tutte ragazze con degli adesivi per unghie dei nail wraps come avete visto cominciamo subito con i prodotti che poi poi ancora poi ancora della della poi ancora della piaccia che sotto adesso appunto possiamo vedere che c'è anche qui sotto il tastino iscriviti poi dovete mettere mi piace poi dovete mettere mi piace a questo video e metterlo tra i preferiti e sicuramente questo video e metterlo tra i preferiti assicurarvi che queste due playlist siano pubbliche così appunto io appena vado a fare poi dovete per partecipare appunto le spese di spedizione saranno a mio carico appunto questi live stanno detto soltanto e solo soltanto le spese di spedizione saranno a mio carico e questo giveaway è stato indetto soltanto assolutamente questo giveaway dovrà appunto questo giveaway per qualsiasi domanda scrivetemi qui sotto nei commenti o magari per qualsiasi domanda scrivetemi in privato così che io non commento qui sotto e non rischio di per qualsiasi domanda scrivetemi nella pagina facebook o in privato così che qui sotto non commento e non rischio di per qualsiasi domanda scrivetemi nella pagina facebook o in privato per qualsiasi domanda scrivetemi in privato o nella pagina facebook perché almeno qui sotto non commento io sono stata io sono stata adagata io sono stata adagata c'è appunto questa metodologia di diciamo questa cosa la numero 3 è ti piace fare collaborazioni la numero 3 è ti piace fare collaborazioni e se sono con te sono la numero 4 è segui la numero 4 è magari non so una nell'arte visto che ormai andiamo sotto Natale è uno dell'arte di halloween spero tanto che questo video vi sia stato di compagnia e che vi sia piaciuto e che vi sia divertito spero tanto che questo video vi abbia tenuto compagnia e che vi abbia divertito io gli mando un gas questa qui stile che tu c'è formaggio avventaglio a questo qui e fa vedere anche come utilizzarlo e poi a questo qua scusate questo è il ventaglio e fa vedere come utilizzarlo vedete già un po' qui al lato c'è un nuovo pennellino per le ciglia e le spracciglia di quello doppio due in uno pettine e... è tanto caffè si oddio chi è credente chi si è fuori non vorrei che mi si ciccola la telecamera subito ma eh? aspetta che vado a vedere che bisogna al di un veone stai fede? si anzi aspetta mi ceffi me lo fai assaggiare? no no non è buono vuole, fa schifo le hai detto due eh ma siccome un po' mi è cascato mezzo cucchiaino di... eeeh e sbrivicati sto diventando vecchio mezzo cucchiaino di lievito... di... 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 di carbonato un quarto era... un quarto di carbonato no quello lì ci ho combattuto con quel coso ti ricordi quando aiutano? mi piaceva tantissimo il miele quando l'ho trovato ci ho combattuto con questo coso da una pazienza infinita si parla poco non lo so perché riesca a escocire questa cosa si non so io ci ho combattuto che cosa? eh che diritto con che cosa? quel coso Questa parte la salterai oppure? Oppure cosa? Tutta questa parte che schizzava Così ti basta? Un cucchiaio Ecco questa qui è la tipica lotta, è la tipica lotta adolescente contro miele Eh no, non fa vedere, un cucchiaio di miele fa vedere subito che mette il cucchiaio Ovviamente il figlio non fa vedere tanto che fa le mani di bea Che non si muove Che è diventata una sbobba Ecco la sbobba Poi vedremo un po' bene la sbobba Ecco tutta la sbobba Sbobbiamola, sbobbiamola Vediamo un coppino di questo È molto denso Infatti è della sbobba È sbobbosa Facciamo questa sbobba Allora me l'attraccando io Ovviamente io ne dovrei Ovviamente ne dovrei E questo è il metodo con il limone E il metodo con l'aceto si può E il metodo con il di riposo e il frigorifero Spero comunque Spero comunque che questo video vi abbia tutto campione E che magari vi abbia visto anche qui Spero comunque questo video Ciao 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 Ciao